vendo trans pallet grande alzata solleva mille chili dotato di timone come potete vedere le forche si alzano fino ad un'altezza massima di un metro e sessanta dotato di freno per il blocco ruota marchio trans pallet italia.com è certificato dotato di un anno di garanzia le forche sono lunghe un metro e 15 e larghe 5 40 la portata massima e mille chili come vi dicevo è un bellissimo prodotto le ruote sono in nylon direzionali ok comodissimi maniglioni per la spinta ok ed è tutto a norma quindi come dicevo certificato per la comunità europea le forche sono quelle standard per il sollevamento degli euro pallet il sollevamento a catena con sistema idraulico e la pompa idraulica con lo sfiato tutti i pezzi di ricambio sono disponibili e il costo non è eccessivo contattatemi per conoscere il prezzo io sono giuseppe santo di trans pallet italia.com